Anche tu compri i carciofi e produci tutto questo scarto per mangiare solo il cuore? Non buttarlo! Ti insegnerò come preparare tutti questi piatti buonissimi Usandoli al 100% Quasi Partiamo dalle bratte, le foglie esterne più dure Sono estremamente fibrose e quindi dopo averle bollite per una ventina di minuti Ricorda di conservare l'acqua di cottura che è ottima per vellutate e risotti Le passo al pasta e verdure Ne hai sicuramente uno in casa Con qualche giro riuscirai a ottenere una crema liscissima E a togliere questi fastidiosissimi aghetti Si può usare in mille modi Ma io la fruglio con stracchino veg e altri ingredienti Per ottenere una salsa fantastica con cui condisco la pasta I gambi invece li pelo Li taglio a sigaretta E li condisco con salsa di soia Sciroppo d'acero Olio d'oliva Dritti in forno Una spolverata di pan grattato Qualche minuto di grill e Ta-da! Questi sono spaziali, li devi provare Mi ero quasi dimenticato dei cuori Mi cuocio alla maniera classica In umido con aglio e prezzemolo Ed ecco qui le meraviglie Alla fine abbiamo ottenuto solo questo scarto Basta avere fantasia Ciao Ruculetto